Il cuore di Cristo Re, presenziata dal legato pontificio cardinale Lond, nella città che fu culla del cattolicissimo stato polacco e dove si viene alla tomba del primo martire nazionale Santa d'Alberto. Il cuore di Cristo Il cuore di Cristo Re, presenziata dal legato di Cristo Re, presenziata dal legato,